gentili telespettatori buona giornata si va verso la fine del green pass stop dopo il 31 di marzo sarà vero ci sono delle voci che cominciano a diventare insistenti sulla fine del green pass proprio in concomitanza con la fine dello stato di emergenza il sottosegretario costa dice che un graduale allentamento della stretta ci sarà e sasso dice che serviranno nuovi protocolli in classe la curva dei contagi continua a migliorare a scendere si pensa e tutti guardano al 31 di marzo ma attenzione il governo non andrà a dirlo prima perché se il governo adesso dice al 31 di marzo non ci sarà più il green pass da oggi al 31 di marzo non si andrà più a vaccinare nessuno tutti diranno basta è finito quelli che dovevano fare la seconda dose non la fanno più quelli che dovevano fare la terza non la fanno i cinquantenni in su che dovevano andare a lavoro con il green pass dicono vabbè volevo farlo non lo faccio aspetto aspetto un altro po e così vado avanti per un altro mese poi posso di ritorno al lavoro e ricomincio con lo stipendio quindi il governo non dice nulla eventualmente fino al 31 di marzo magari il 31 di marzo dice beh da domani non c'è più il green pass ha fatto compiuto perché se lo dice prima dice poi poi non si vaccinano più e allora invece andiamo avanti perché devono fare tutti la terza dose tutti quelli che l'hanno che dovrebbero farla che l'hanno programmata che dovrebbero averla programmata lo stato di emergenza non verrà prorogato questo è ormai ovvio ma cosa accadrà al green pass e alle altre misure che chiamano di contenimento della pandemia che però in realtà gli studi diversi studi hanno dimostrato che queste misure green pass eccetera eccetera in realtà non hanno fermato i contagi perché hanno messo a confronto come vi dicevo già in altri video paesi con green pass paesi senza green pass e paesi con via di me una via di mezzo ecco in tutti questi paesi green pass senza green pass le cose sono andate esattamente nello stesso modo quindi le chiamano misure di contenimento ma non hanno contenuto un bel nulla ormai sono in molti a dire che queste misure green pass in testa vanno abolite allentate nonostante quello rafforzato da ieri sia obbligatorio per tutti i lavoratori over 50 il tema di una sua imminente abolizione è sempre più attuale andrea costa sottosegretario della salute del governo draghi lo ritiene uno scenario possibile il poter far meno farne a meno dal 31 di marzo teniamo conto spiega su rai radio 1 che oggi dobbiamo completare la somministrazione delle tre dosi per ultimare la campagna vaccinale procedendo con questo ritmo è ragionevole pensare che per marzo potremmo aver portato a termine l'operazione e qui mi ricollego a quello che vi dicevo prima vogliono far fare la terza dose a tutti ed è per questo che non dicono niente fino a fine marzo e poi eventualmente lo lo cancellano dall'oggi al domani però senza preavviso perché con il preavviso poi non si completano le terze dosi l'obiettivo del governo conferma costa a tutti i costi e riportare alla normalità il paese si lavora per arrivare a togliere tutte le restrizioni in un percorso graduale beh da ieri sono aumentate quindi questo percorso graduale ancora deve sì è cominciato non c'è più la mascherina all'aperto insomma quello mi sembra però il minimo perché il vero problema è questo green pass giorgia meloni dall'opposizione da sempre critica nei confronti di questo strumento continua a battersi per eliminarlo e dice discriminatorio inutile posizione condivisa anche da matteo salvini che però è al governo cioè un conto se lo dice giorgia meloni che all'opposizione un conto è matteo salvini che ha firmato ha fatto firmare all'unanimità tutti i decreti per il green pass quindi in realtà se matteo salvini dice no al green pass forse un po troppo tardi adesso doveva pensarci prima così salvini torna forse a mettere in difficoltà la maggioranza chiedendone l'abolizione a marzo se già draghi ha pensato di cancellarlo a marzo facendo così salvini potrà intestarsene il successo grazie a me il green pass è stato cancellato ma grazie a te il green pass è stato messo in in funzione grazie a te e al governo quindi grazie al cavolo si potrebbe dire lì c'era un zulli di forza itali dice la lega sbaglia prematuro superare l'obbligo per la verità anche nel mondo scientifico non manca chi ritiene maturi i tempi per dire addio a questo strumento politico e bassetti genovese dice il green passa esaurito il suo compito di strumento per far vaccinare gli italiani mantenerlo oltre il 31 di marzo non porterà a far immunizzare dice proprio immunizzare di più di quanto fatto fino ad oggi alla microbiologa maria rita gismondo dice non esiste dal punto di vista scientifico alcuna motivazione perché resti in essere e massimo andreoni primario di infittoivologia il policlinico tor vergata di roma dice credo che il suo compito sia finito e oggettivamente in condizioni di ulteriore riduzione dell'epidemia si potrebbe togliere anche arnaldo caruso che non è il cantante presidente della società italiana di virologia non è d'accordo con il consigliere del ministro della salute roberto non roberto sì il consiglio della salute roberto speranza walter ricciardi che vorrebbe mantenere il green pass per tutto l'anno se portato avanti oltre il 31 di marzo dice sembra un'implicita incapacità dello stato a far rispettare le proprie leggi su questo poi ne abbiamo parlato ieri in un video e poi sulla scuola naturalmente i protocolli verranno semplificati anche la scuola si adeguerà eventualmente alla sparizione di tutte queste imposizioni che hanno limitato per due anni la libertà di movimento la libertà in generale degli italiani adesso tocca alla politica decidere speriamo che decidano in fretta grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video di là su tele italia grazie a tutti arrivederci